ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come per il settimanale chi è certo michel unzichere tomaso trussardi sono tornati insieme ma detta lui le regole così scrive il settimanale diretto da alfonso signorini che mette i due sulla cover del giornale utilizzando la foto social che la 45 n e il 39 n hanno condiviso quella in cui festeggiano il compleanno di sole pubblicata su instagram lo scorso 10 ottobre in occasione del party per i nove anni della figlia il primo passo verso la riappacificazione dopo l'addio comunicato a mezzo stampa il 19 gennaio scorso l'avrebbe fatto la showgirl ma tomaso in un primo momento non voleva saperne il motivo l'imprenditore avrebbe confessato agli amici più stretti che non gli era nemmeno andata giù l'apparizione forse un po forzata televisivamente forzata di michele del suo ex eros ramazzotti avvenuta nel programma michelle impossible su canale 5 poi c'è stata anche la storia della svizzera con giovanni angiolini michelle stando al giornale avrebbe atteso pazientemente quando avrebbe capito che a trussardi mancava il quotidiano con lei e le bambine sole celeste la terzogenita di 7 anni della unziker sarebbe riuscita a riconquistarlo grazie al dialogo ai messaggini grazie alla condivisione e alla crescita delle loro due figlie tomaso però avrebbe imposto i suoi diktat bocche cucite stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste tv niente immagini di famiglie allargate per rappresentare un surreale volemo sebbene sempre stando a chi tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori la casa il settimanale sottolinea quanto l'imprenditore sarebbe da sempre allergico a copertine e racconti privati dopo la rottura con michelle non è mai stato ritratto con altre donne in atteggiamenti sospetti la unziker sarebbe sempre rimasta nel suo cuore tomaso avrebbe anche ricucito lo strappo con aurora ramazzotti la primogenita 25enne della showgirl tutto questo avrebbe portato alla romantica riunione grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video